Buongiorno amici del Resto del Carrino.it, la protesta dei tifosi è arrivata a segno una pagina pubblicitaria del Resto del Carrino, comperata da alcuni gruppi della tifoseria che fanno capo a alcuni siti internet molto frequentati, adatto alla scossa e il Bologna si sta muovendo per avere sul mercato talenti nuovi, ma soprattutto per definire una strategia che verrà probabilmente comunicata in modo definitivo ai tifosi nel corso della prossima settimana. Di certo c'è che i contratti più onerosi verranno rimossi e che la politica del Bologna premierà soprattutto i giovani. Chi è che non rimarrà nel Bologna di domani? È quasi certo che se ne andranno Marazzina, Muddingai, Adahilton e Volpi, tutti giocatori con un buon cartellino di alta qualità ma che hanno nell'età e nel costo specifico un limite evidente che il Bologna non vuole più trascinarsi dietro, anche perché la politica dicevamo della società dovrebbe premiare soprattutto i giocatori giovani e in questo senso arrivano le segnalazioni di possibili acquisti che sono davvero interessanti. Cominciamo da Paul Vitor Barreto, 24 anni, ex giocatore dell'Udinese, poi in forza nell'ultima stagione al Bari, al quale era finito in comproprietà, ha segnato ben 23 gol e una seconda punta molto veloce, capace di aprire gli spazi, quindi adatta probabilmente a giocare in coppia con Divaio ma anche di catapultarsi direttamente in area di rigore per andare a centrare il gol in maniera diretta come puntualmente ha saputo fare con il Bari. Possibilità anche per Edgar Barreto che invece è un centrocampista paraguaiano in forza alla Regina, ha segnato tra l'altro anche un gol nell'ultima stagione al Bologna che potrebbe andare ad innervare un centrocampo che ovviamente va incontro a un rimpasto, a una nuova dimensione. Per quanto riguarda gli altri veterani sembrano invece più vicine le riconferme per Amoroso e Bombardini che sono due dei punti fermi indicati anche da Divaio quando è stato qui all'arresto del Carlino per la video chat in diretta con i tifosi, da definire le posizioni di Antonioli e Castellini che sono i più avanti con l'età e che potrebbero rimanere ovviamente come bandiere del Bologna a patto naturalmente che ci sia un discorso importante che riguarda i loro ingaggi che vanno rivisti naturalmente al ribasso. Questa è la situazione del momento, è un Bologna che si guarda intorno, che cerca dei talenti importanti ma che ha bisogno di chiarezza in tempi brevi anche dai punti e dai vertici della società. Grazie. 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 Grazie.